e abbiamo ancora la monoluce da late show anzi a proposito di late show approfitto per salutare io toby karim l'altra volta quando avevo citato shy lui era addirittura venuto sotto al video nei commenti a commentare fai te io te l'ho detto vedi te o come sapete negli ultimi giorni la nazionale italiana la nostra nazionale ha centrato la qualificazione ai mondiali è un traguardo importante un risultato storico perché ci riporta nella massima competizione mondiale dopo oltre 13 anni ed è quindi un grandissimo successo ottenuto da meo sacchetti e dai suoi ragazzi che fa del bene a tutto il movimento basket italiano per questo motivo ho pensato di celebrare in qualche modo questo traguardo con il primo video in assoluto dedicato alla nazionale qui sul nostro canale ho voluto seguire uno dei vostri suggerimenti una delle vostre richieste e quindi in questo video andremo a scegliere i miei personalissimi 12 convocati per il prossimo mondiale e li andremo poi magari chissà anche a confrontare con i vostri 12 convocati che vi invito già da subito a lasciare qui sotto nei commenti però prima di cominciare ho bisogno sopportatemi di tre premesse numero uno per fare le mie scelte che state per vedere sono partito da due presupposti che tutti i giocatori selezionabili per la nazionale italiana fossero sani quindi esenti da problematiche fisiche e che tutti i giocatori selezionabili per la nazionale italiana fossero disponibili a vestire l'azzurro ai mondiali sappiamo poi che in realtà all'atto pratico queste due condizioni non si verificano mai perché gli infortuni sono sempre dietro l'angolo i giocatori hanno sempre 1500 problemi con il club personali familiari quindi non è mai così questi sono due condizioni idilliache che non si presentano mai però dovendo fare delle scelte oggi che è il 20 20 20 20 e qualcosa di febbraio dovevamo partire da un qualche cosa di concreto non avendo chiaramente la palla di vetro per sapere quali saranno le condizioni dei giocatori al momento delle scelte numero 2 questo è il mio primo video riguardo l'argomento mancano ancora come detto tantissimi mesi al momento della scelta per cui è molto possibile altamente probabile che anche questa mia scelta possa cambiare chiaramente io ora ho operato delle scelte sulla base di quello che abbiamo visto sul rendimento dei giocatori fino ad oggi non posso sapere quello che succederà da qui in poi per cui magari sarà divertente nei prossimi mesi rifare questo video e vedere anche quali potrebbero essere state eventuali modifiche nel roster e infine numero 3 volevo spendere due parole su andrea barniani perché io sono stato uno di quelli che nel corso degli anni soprattutto in seguito alle diverse manifestazioni nazionali ho criticato tantissimo andrea barniani per tutta una serie di motivazioni che magari poi potremo ad andare ad approfondire meglio in un video dedicato però poi nel momento in cui arrivi a fare una scelta e ti ritrovi davanti tutti i giocatori possibili selezionabili per il reparto lunghi della nazionale com'è come non è ti rendi conto che il mago manca manca tantissimo cioè a questa possibile ipotetica futura nazionale andrea barniani avrebbe fatto un enorme comodo a prescindere da tutti i limiti difetti da tutto quello che è stato con le esperienze precedenti però il mago ci manca davvero davvero tanto e detto questo direi che possiamo cominciare bene eccoci qua vi spiego un attimo brevemente come è strutturato il tabellone sulla parte sinistra trovate lo scacchiere con tutti i giocatori che per un motivo o per l'altro sono nel giro della nazionale spero di non essermi dimenticato di nessuno non è stato facile trovare la faccia di ognuno e soprattutto cosa che non pensavo è stato difficilissimo metterli in ordine alfabetico per cognome ci ho perso due ore e penso anche sinceramente di aver fatto degli errori ma a parte tutto questo sulla parte destra trovate invece la griglia dei giocatori che andremo a convocare per comodità esclusivamente per comodità logica di organizzazione del pensiero e grafica per vederli schierati li ho suddivisi nei cinque ruoli però sapete bene quello che io penso dei ruoli e del fatto che stiano scomparendo nel basket di oggi comunque sia la mia nazionale la mia nazionale parte da un presupposto una base di partenza di quattro giocatori quattro pilastri che se è possibile averli io convocherei sempre e comunque sto parlando di gigi datome marco belinelli ovviamente nicolo melli e l'ultimo lasciato volutamente per ultimo danilo gallinari perché dico lasciato per ultimo perché pur essendo il giocatore con maggior talento di tutta questa squadra deve fare secondo me dei sacrifici nel senso che storicamente la nostra nazionale ha avuto e ha problemi sotto canestro e quindi io convocando gallinari mi sentirei di schierarlo ipoteticamente ripeto perché poi i ruoli non esistano ma dal numero 4 potrà giocare anche dei minuti da centro perché gallinari con le doti fisiche e tecniche che ha questi ruoli se li può fare tutti potrà giocare anche da portatore di palla creatore di gioco però per partire io me lo voglio considerare un 4 ripeto soltanto per ragioni tecniche di uomini a disposizione detto questo le prime scelte importanti da fare sono sotto canestro io non sono un patito un grande amante della small ball ma con questi giocatori a disposizione io mi sento di portare un solo centro di ruolo ossia riccardo cervi lo so è un rischio però avendo tanti esterni con tanto talento a disposizione anche troppo io mi sento di sacrificare un onesto giocatore che potrebbe essere il cousin il biliga lo stesso christian barz per avere magari un pochino più di talento da spendere sugli esterni giocherò con cervi da 5 con gallinari da 5 con melli da 5 entrambi adattati cercherò comunque di fare di necessità virtù in ogni caso resta comunque da scegliere un altro lungo perché ce ne vorrebbero secondo me almeno 5 però 4 sono veramente il minimo del minimo e questo ruolo sinceramente io l'avrei dato a dada pascolo ma il dada pascolo che ho visto fino ad ora nel post olimpia milano non è un giocatore che può meritare questo quarto posto di conseguenza la mia scelta ricade tra achille polonara e jeff brooks questo perché piporicci è la prima vera stagione da protagonista assoluto in serie a perché brian sacchetti comunque è un giocatore importante che mi darebbe anche quel gap di grinta di intensità in più ma secondo me polonara e brooks nello specifico sono giocatori più funzionali all'idea di squadra che potremmo mettere insieme con gli altri al momento esclusivamente per quello che ho visto in campo mi sentirei di scegliere polonara più che altro perché ha un passato un escursus un'esperienza più ampia con la nazionale rispetto a jeff brooks e veniamo quindi al reparto degli esterni qui di talento ce n'è anche troppo come dicevamo sono addirittura troppi i giocatori che potremmo portare ma ce ne sono due in particolare a cui non mi sento di rinunciare alessandro gentile che che se ne dica di alessandro gentile e pietro radori perché pietro radori quando ha giocato con la nazionale in un modo o nell'altro si è sempre rivelato estremamente utile alla causa li possiamo invertire considerare radori una piccola e gentile una guardia non è importante fatto sta che tutte e due secondo me ci devono essere e lasciamo per ultimo quello che invece è il ruolo più problematico perché storicamente la nostra nazionale sono sempre mancati negli ultimi 20 anni centri e play io credo che non si possa fare almeno di daniel haket se sano perché daniel haket pur non essendo pur non nascendo playmaker puro ma anche a livello europeo è il giocatore tra tutti questi che ha dimostrato di più fino a questo momento e dovendo fare una scelta poi tra i poeta i figlioi di neri candy e tutti quelli che vedete qua io credo che la scelta possa preferire dei giocatori che hanno esperienza perché luca vitali che anzi ci sposto subito e andrea cinciarini che comunque non sono dei giocatori da talento di nba però sono dei giocatori che portano un bagaglio di esperienza tale che per una manifestazione di questo tipo secondo me alla lunga può essere importante e con un terzetto di playmaker haket vitali cinciarini non avrò la stella nba ma sinceramente io mi sento abbastanza coperto in cabina di regia se non ho fatto male i conti 5 6 7 8 9 10 11 mi manca un giocatore andrebbero bene tutti questi qua e quello che sto per dirvi non è assolutamente come talento il giocatore più forte di tutti questi però essendo che il dodicesimo storicamente non gioca quasi mai o comunque pochissimo io credo che questa squadra anche soltanto per gestire dei finali problematici dove c'è il fallo sistematico e da tirare i tiri liberi abbia bisogno di un giocatore affidabile al tiro il giocatore più affidabile al tiro secondo me tra tutti questi ripeto anche solo per fargli fare due tiri liberi quando hai bisogno di uno che tiri praticamente il 100 per cento è amedeo della valle questi ripeto sono i miei miei personalissimi 12 oggi 28 di febbraio e quindi possiamo chiudere questo video invitandovi ancora una volta a scrivere qui sotto nei commenti i vostri 12 selezionati a oggi febbraio 2019 per la nazionale dei mondiali perché potrebbe essere come dicevamo divertente riprendere questo video con i miei e i vostri 12 selezionati tra qualche mese e vedere quali potranno essere le modifiche i cambiamenti che ci sentiremo di apportare dopo aver visto tutto quello che ancora deve succedere